la serra i coniugi l'erbù avevano la stessa età ma lui sembrava più giovane sebbene fosse il più debilitato fra i due vivevano vicino a nantes in una graziosa proprietà che si erano comprata dopo aver messo su un capitaletto vendendo cotonine la casa era circondata da un bel giardino col pollaio il chiosco cinese e in fondo una piccola serra il signor l'erbù era basso tondo e gioviale di una giovialità da bottegaio bontempone sua moglie magra ostinata e sempre scontenta non era riuscita a smorzare il buon umore del marito si tingeva i capelli ogni tanto leggeva qualche romanzo che la faceva sognare sebbene fingesse di disprezzare quel genere di libri la definivano una passionale senza che avesse mai fatto nulla che giustificasse una simile opinione ma suo marito diceva talvolta mia moglie è una bersagliera con una zartaria di sottintesi che faceva pensare tuttavia da qualche anno si mostrava aggressiva con suo marito sempre irritata e aspra come se l'avesse tormentata un dispiacere segreto e inconfessabile ne derivò una specie di dissapore tra i due si parlavano appena e la signora che si chiamava palmir grovesciava addosso al signore che si chiamava gustave farsettine sgradevoli allusione offensive parole aspre senza ragioni evidenti lui incassava seccato ma sempre allegro provvisto di un tal fondo di buonomia da prendere in santa pace queste angherie coniugali si domandava tuttavia quale causa ignorata potesse inasprire ogni giorno di più la sua compagna sentendo che quell'irritazione aveva una ragione nascosta ma così difficile da penetrare che ogni sforzo andava sprecato le domandava spesso vediamo un po' cara dimmi che hai contro di me sento che mi nascondi qualcosa lei rispondeva invariabilmente non ho nulla assolutamente nulla del resto se avessi qualche motivo di malumore dovresti essere tu a indovinarlo non mi piacciono i uomini che non capiscono nulla tanto moglie ai netti che dobbiamo correre ad aiutarli perché afferrino le cose più semplici scoraggiato lui mormorava vedo proprio che non mi vuoi dire niente e si allontanava lambiccandosi il cervello soprattutto le notti si erano fatte molto penose per lui perché come tutte le buone e semplici coppie dividevano ancora il medesimo letto allora non c'era molestia che gli fosse risparmiata sceglieva il momento in cui stavano distesi a fianco a fianco per opprimerlo con i motteggi più crudeli lo rimproverava specialmente di ingrassare mi prendi tutto il posto tanto diventi grasso e mi sudi sulla schiena come se fosse un uomo di lardo credi che sia piacevole l'obbligava ad alzarsi con il minimo pretesto mandandolo al piano di sotto a prendere un giornale dimenticato o la bottiglia d'acqua di fior d'arancio che il poveretto non trovava perché l'aveva nascosta lei e con tono irisoglio e sarcastico gridava eppure dovresti sapere dove trovarla cratino quando poi dopo aver girato per un'ora nella casa addormentata tornava a mani vuote gli diceva per tutto ringraziamento beh torna letto passeggiare un po' ti avrà fatto dimagrire diventi flaccido come una spugna lo svegliava ogni momento affermando di soffrire di crampi allo stomaco ed esigendo che lui le frizzonasse il ventre con un pezzo di lana imbevuta d'acqua di colonia lui faceva del suo meglio desolato di vederla star male e soffriva di andare a svegliare celeste la domestica allora lei si arrabbiava davvero e urlava guarda se è poco cretino questo somaro basta finito non sto più male riaddormentati stupidone lui domandava davvero non soffri più lei gli buttava in faccia duramente no sta zitto lasciami dormire non scocciare non sei buono a nulla nemmeno a frizionare una donna quello si disperava ma tesoro ma lei esasperata che ma e ma basta eh lasciami in pace adesso e si voltava verso il muro bene una notte ella gli diede uno scossone così brusco che lui fece un salto dalla paura e si trovò seduto in mezzo al letto con una rapidità che non gli era abituale malbettò che c'hai? che cosa succede? lei lo teneva per un braccio pizzicandolo da farlo gridare gli soffiò in un orecchio ho sentito un rumore abituato ai frequenti allarmi della signora Lerebour il marito senza preoccuparsi più del necessario chiese tranquillamente quale rumore tesoro? tremante come impazzita essa rispose rumore rumore sì rumore rumore di passi c'è qualcuno l'altro restava incredulo qualcuno? credi? ma no certo ti sbagli chi vuoi che sia del resto? e lei fremente chi? chi? ma i ladri imbecille ma il marito infilandosi calmo tra le lenzuola ma no tesoro non c'è nessuno certo che hai sognato allora lei buttando via le coperte saltò dal letto fuori di sé ma dunque sei vile quanto inetto in ogni modo non mi lascerò massacrare per la tua vigliaccheria e afferrate le molle del caminetto si piazzò dritta davanti la porta chiusa a catenaccio pronta a combattere scosso da tale esempio di coraggio e forse un po' vergognoso si alzò anche lui torcendo il muso e senza togliersi il berretto da notte prese la paletta e si mise di faccia alla moglie aspettarono venti minuti nel più profondo silenzio nessun nuovo rumore venne a turbare la tranquillità della casa allora la signora furiosa tornò a letto dichiarando eppure sono sicura che c'era qualcuno per evitare liti il marito per tutto il giorno non fece allusione a quella mezz'ora di panico ma la notte seguente la signora Lerebour svegliò il disgraziato con violenza ancora maggiore e tuttansimante balbettò Gustave Gustave hanno aperto la porta del giardino stupito da tanta insistenza credette la moglie malata di sonnambulismo e stava per scuoterla da quel sonno pericoloso quando realmente gli sembrò di udire un leggero rumore sotto i muri della casa si alzò corse alla finestra e vide sì vide un'ombra bianca che attraversava rapidamente il viale morborò sentendosi venire meno c'è qualcuno poi si riprese si fece coraggio e sollevato d'un tratto dalla terribile collera del proprietario che vede violato il suo confine e gridò aspetta aspetta te la faccio vedere io lanciandosi verso la scrivania aprì un cassetto prese la pistola e si precipitò per le scale la moglie disperata lo seguiva gridando Gustave Gustave non mi abbandonare non lasciarmi sola Gustave Gustave ma lui non l'ascoltava era già sulla porta del giardino allora lei risalì in tutta fretta per barricarsi nella camera matrimoniale rimasi in attesa cinque minuti dieci minuti un quarto d'ora l'invadeva un terrore folle certo lo avevano afferrato legato strangolato avrebbe preferito sentir rimbombare i sei colpi della pistola sapere che il marito si batteva si difendeva ma quel gran silenzio lo spaventoso silenzio della campagna l'atterriva suonò il campanello per chiamare Celeste Celeste non venne non rispose affatto suonò di nuovo tremando sul punto di perdere conoscenza tutta la casa era silenziosa appoggiò ai vetri la fronte che bruciava cercando di scrutare nelle tenebre non distinse altro che le ombre più scure non distinse altro che le ombre più scure dei cespugli a fianco delle strisce grigie dei sentieri udì battere la mezzanotte il marito era assente da quarantacinque minuti non lo avrebbe più riveduto no certamente non lo avrebbe rivisto mai più e cadde in ginocchio singhiozzando due leggeri colpi contro la porta della camera la fecero balzare in piedi il signor Lerebour la chiamava apri Palmir sono io si slanciò aprì e ritta davanti a lui coi pugni sui fianchi gli occhi ancora pieni di lacrime da dove vieni bestiaccia mi lasci sola così a crepar di paura non ti curi di me come se io non esistessi lui aveva richiuso la porta e rideva rideva come matto con la bocca che gli arrivava alle orecchie le mani sul ventre gli occhi umidi la signora Lerebour ammutoli soddisfatta il marito belbettava era era celeste che aveva un 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 appuntamento nella serra tu sapessi che 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 cosa ho visto lei si era fatta livida lo sdegno la soffocava eh come hai detto celeste qui da me nella nella mia casa nella mia nella mia serra e non hai ucciso quell'uomo il complice avevi la pistola e non lo hai ammazzato in casa mia in casa mia calde a sedere non si reggeva più lui fece un saltello schioccò le dita poi la lingua e continuando a ridere tu sapessi tu sapessi che cosa ho visto all'improvviso le diede un bacio la moglie lo respinsa e con la voce rotta dalla collera non voglio che quella svergognata resti un giorno di più in casa mia inteso nemmeno un giorno nemmeno un'ora quando tornerà la sbatteremo fuori il signor Lerebour aveva afferrato la moglie per la vita e le copriva il collo di baci fitti fitti baci schioccanti come quelli di un tempo e si attacque di nuovo paralizzata dallo stupore ma lui tenendola stretta con ambo le brazza la trascinava dolcemente verso il letto verso le nove e mezza di mattina celeste meravigliate di non vedere ancora i padroni che si alzavano sempre di buon'ora venne a bussare pian pianino alla porta della camera ancora a letto chiacchieravano allegramente fianco a fianco disse frastornata signora il caffè latte la signora Lerebour pronunciò con voce dolcissima portatelo qui figliuola siamo un po' stanchi abbiamo dormito poco non appena fu uscita celeste il signor Lerebour si mise a ridere stuzzicando la moglie ripetendo se sapessi oh se sapessi su sta un po' buono tesoro se ridi così ti farà male e lo baciò dolcemente sugli occhi la signora Lerebour non è più acida nelle notti chiare i due sposi vanno talvolta a passi furtivi lungo i cespugli e le aiuole fino alla piccola serra in fondo al giardino restano là rincantucciati stretti stretti dietro la vetrata come se guardassero là dentro come se guardassero là dentro una strana cosa piena di interesse hanno aumentato il mensile di celeste il signor Lerebour è dimagrito è dimagrito è dimagrito è dimagrito Grazie a tutti